E salve a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video tutorial Allora quest'oggi sempre su Jaws vedremo come regolare la sintesi vocale Cioè come cambiarne le... Io direi che devi non perdere tempo e cominciare subito Allora intanto andiamo nella finestra di Jaws Poi puoi mettere il tasto applicazioni, quello qui di sinistra Nel menu delle opzioni Prendiamo il tasto a sinistra dello spazio Poi prendiamo il tasto a sinistra e destra Poi prendiamo il tasto a sinistra e destra Poi andiamo a voci Prendiamo il mio R-Voce punto 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 b Poi andiamo a voci O-R-Voce punto punto P-P Speech يمdata Poi-Voce Prendiamo il diese Prendiamo il sitio Prendiamo il suo ruolo Prendiamo il suo ruolo Prendiamo il suo ruolo Gle Prendiamo il suo ruolo Da questa il suo ruolo Sitra güzel Nel lavoro Prendiamo il suo ruolo da spoil Casta Certamente Ge Very Poi qui la velocità Poi potete rimettere così Oppure così Qui potete modificare la punteggiatura quando volete rileggere la punteggiatura Qui vedete il testo punto Qui vedete il testo punto Qua qualcosa Oppure vedete il testo Io vedete il testo punto Qui potete modificare le impostazioni della sintesi vocale Ovviamente ci sono delle impostazioni avanzate che io non vi ho fatto vedere Perchè sarebbe abbastanza difficile Non le uso nemmeno in questo Quindi spero che questo video tutorial vi sia piaciuto Se ecco di lasciatemi un commento online Che noi ci vedremo in un prossimo tutorial E in un prossimo video Ciao a tutti 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 Grazie a tutti